Oggi prepariamo la melanzana al parmigiano. va bene? I buoni, io sono qui, 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 questi ingredienti della ricetta Milazanale parmigiano, questo è il pomodoro passato, taccali sauce, mettere il gramme, olio, olive oil, sale, lunù, parmigiano, parmigiano, cistica, cipolla, tritata, l'uno, il pomodoro, mozzarella, mozzarella, può prendere come vuole, a questo preso io, per mettere il pomodoro, il pomodoro, il pomodoro, il pomodoro, non si acqua che tiene, c'è tanti tipi di mozzarella, poi c'è milanzane, vambato, mettere il pomodoro, mettere il pomodoro, mettere il gramme, si acquitera, il pomodoro, il pomodoro, e basilico, anche basilico, che ne colè, mettere il pomodoro, che dà ne, taglio, milanzane, pizzerla, per, quando, il pomodoro, mi vuol dire, che è a livello che ha pagato, adesso, dentro, così, un po' di salto, i milanzane, prepariamo così, io preparo così, perché c'è tante persone, fanno con uova, con farina, io faccio piastra, i milanzane, un po' di salto, in un po' di salto, l'olio, in un po' di salto, e l'olio, l'olio, in un po' di salto, e vedete così 40 minuti 50 minuti a pdm e vi dire a pesa via peccata la media termina di hatteli ha fatto l'ispa ha qui terra non è toga la gamba e torta a bvd anima a due per un'anima triana testati all'istaggiamo mozzarella cubetti apidemmo sarelle caraghera nevi dire capa da modelli venga pizzo spenne capire ptl e olivo il daga una petacca e sosse con un caraghani anni cipolla un po di più diciamo come cipolla media mentre fa pagato di uno che che toccano te la cipolla pronta nella pello una cabella di latine api maker davano api a ragazza tutta cali so seca metà cali so seca metà cali so seca metà cali so seca o volante a darlanda fulano tutta la natura in cattacca li via dati epitima dalla vina di paha la vina di paha peterre tembe nati alla vina di pasta vattura per agini mica po di carla un po' di sale un po' di pepe un po' di scurri un po' di sale un po' di pepe un po' di pepe un po' di sale 20 minuti un po' di sale un po' di sale ora mettiamo un po' di basilico 40 minuti e così ma che da minardi a pihata li ha kata passi make a me mati anni mi lu da la mia balando guarda penna meti araba oda imbarakuti anni matura matura co make a vatico be is vatico be reno nu ga ti insa kato kato pipi nid nè api del mevi not hattali kata passi make a ma vediata per il silenzio servietta mattina da l'anno i antonio vattuto in onanica patroga tiva come to my make a down in him and in quasi pronto ora mi vediamo che ci sono tutti i gatti e 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 i gatti's Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info con una tacca poi mettere la bolletta poi mettere il pomodoro e poi mettere il sosseo e poi mettere il sosseo e poi mettere la macchina e poi mettere la macchina e poi mettere la parmigianza poi mettere la città e un po' di basilico ma se il colore hai maddaga no per taccare le sosse che intattua parmigiano cheese tocca le sosse tutto mettiamo tutto mozzarella adesso è pronto inforniamo 200 gradi per 25-30 minuti ok ci sono e poi vediamo la parmigia di l'amore finiscono le parmigiano quindi in modo che vi faccio il pietro che vi faccio il pietro? vi faccio il pietro vi faccio il pietro i faccio il pietro e il pietro il pietro adesso è pronto dai un po' di bale moghilla per averne chiaro come da per parmigiano questo è pronto mangiamo sal ci vediamo alla prossima